Si è svolto presso la sala consigliare di Andria un convegno sulle malattie rare promosso dall'associazione IMNR Puglia in collaborazione con la FIDAPA di Andria e con le associazioni sensibili alla problematica. Per l'occasione è stata presentata anche una raccolta di lettere e racconti di Andriesi che si narrano nella gioia e nel dolore, volti e risvolti della famiglia. Don Giuseppe, qual è l'oggetto del suo manuale? È nato da una collaborazione con più persone, sia fisiche che giuridiche. Il testo ha proprio questo titolo, che è quello di Volti e risvolti della famiglia Oggi. È una raccolta di storie, così avevo proposto a chi poi ha collaborato in questa stesura, insieme di storie che raccontano dei volti e anche tutti i risvolti che oggi la famiglia, anche alla luce delle ultime e ultimissime notizie, sta avendo a livello nazionale e internazionale. Quindi quali sono le conclusioni a cui si giunge? Le conclusioni alle quali siamo giunti è che comunque la famiglia felice, unita, composta dalla mamma, dal papà, che accolgono i propri figli nel dolore, nella gioia, c'è che le famiglie riescono sempre a trovare la forza per poter andare avanti. Molto spesso le famiglie si disgregano, è la realtà, però anche in quella discomposizione della famiglia si riesce sempre a ritrovare il bene e l'amore da donare ai propri figli. Sul tema delle malattie rare, a che punto è la ricerca? La ricerca va avanti comunque, il problema è che vanno incentivati i nostri ricercatori italiani, purtroppo vanno all'estero perché qui in Italia non hanno la possibilità di poter andare avanti e poter effettuare le ricerche per le malattie rare. In alcune malattie rare la ricerca va a gonfie vele, in particolare per le neurodegenerative. Incentivando la ricerca per le malattie rare, noi stiamo cercando di estendere questa nuova mentalità, un nuovo modo di concepire la malattia rara. Fare ricerca nella malattia rara significa anche favorire e risolvere le problematiche delle malattie sociali, quali Parkinson, Alzheimer, addirittura ci sono correlazioni anche con il diabete. Pertanto è bene che vengano indirizzate per queste malattie i fondi previsti per la ricerca. La FIDAPA è un'associazione che si preoccupa soprattutto di promuovere la donna e tutto ciò che gira intorno al mondo femminile. Di conseguenza anche alle associazioni che ci chiedono la nostra collaborazione. Io mi sono anche sentita di cercare di coinvolgere altre associazioni di Andrea perché si faccia voce su questa problematica veramente molto seria e che colpisce purtroppo molte persone nel nostro territorio.